Ci troviamo a Taranto, quartiere Paolo VI, via 25 Aprile, in una villetta, in un'area adibita a verde pubblico, con panchine e con giochi per bambini. Beh, quello che doveva essere il cosiddetto verde pubblico attrezzato, nulla di questo, perché questa villetta che fu realizzata alcuni anni fa, in concomitanza con i lavori per la rimozione dell'amianto dalle case, ripeto, questa villetta doveva essere davvero un gioiellino, un gioiellino per far sì che ci si potesse sedere alle panchine, si potesse respirare un po' di aria fresca, per far sì che i bambini potessero giocare, visto che ci sono i giochi pubblici. Ora vedete, c'è uno stato di degrado assoluto, di abbandono, di sporcizia. L'amministrazione comunale da anni non manda nessuno a eseguire i lavori, le opere, gli interventi di pulizia. Nulla. Da anni. Anni. Sapete cosa significa? Il cittadino paga le tasse e si ritrova in un contesto di degrado assoluto, di schifezza. Anzi, fino a qualche tempo fa erano gli stessi abitanti della zona che, con i loro mezzi, con il loro sacrificio, andavano a pulire loro stessi la zona, perché dicevano noi abitiamo qui e non vogliamo stare nello schifo. Ma questo una volta, due, tre, quattro, cinque, dieci, poi a un certo punto si sono giustamente a resi e il degrado è cresciuto, è aumentato. L'erbaccia, le carte, certo, le carte, la sporcizia non è che cade dal cielo, però voglio dire di tanto in tanto l'amministrazione comunale dovrebbe fare, realizzare un'opera di bonifica, tagliare l'erba, fare una bella pulizia, come si fa in tutta, si dovrebbe fare in tutta la città, gli interventi di igienizzazione, perché qui non si può stare più tra insetti e zanzare e quant'altro, cioè far sì che, fare in modo che come in altre strade, in altre piazzette della città avviene l'opera di, avvengono gli interventi di pulizia e la stessa cosa dovrebbe accadere qui, nulla. Le erbacce crescono, vedete, lì vicino a Lampione saranno arrivate forse a un metro, un metro e mezzo, sporcizia, non è assolutamente possibile che i bambini possano venire a giocare qui, perché ovviamente rischierebbero di contrarre malattie, di contrarre infezioni. L'amministrazione comunale è stata sollecitata, fu anche sollecitata la precedente, ma nulla. Qui non chiediamo tanto. È così difficile, signor Sindaco, Assessore all'Ambiente e al Verde Vigiano, intervenire? Far sì che una squadra possa venire a togliere le schifezze presenti? È così difficile? È così difficile, Sindaco e Assessore Vigiano, far sì che un'opera di disinfestazione possa essere realizzata qui? O questi sono cittadini di serie B, C, D e F, G fino alla Z? Ditemelo. Cos'esistono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B? E i cittadini che abitano qui non hanno pari dignità rispetto agli altri? Ammesso che gli altri l'abbiano, perché da come veniamo trattati come cittadini, mi sa che non veniamo proprio considerati dall'amministrazione comunale quanto a servizi. Ecco, vi abbiamo fatto vedere un angolo, purtroppo, di ordinario degrado. Signor Sindaco, signori della Giunta, alzatevi dalle sedie e trottate, camminate per la città, girate, 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 vi fa bene. Vi fa bene anche al Sindaco perché camminando, Sindaco, si perdono chilogrammi, anche a me fa bene. Lei ha una corporatura abbastanza cicciottella, come la mia, d'altronde, e fa bene, Sindaco, camminare e muoversi perché fa bene alla circolazione, ma soprattutto fa bene al cittadino perché lei in questo modo vedrebbe certi quadri di squallore ed interverrebbe. Starebbe bene lei perché si muoverebbe e starebbero meglio i cittadini perché almeno potrebbero ricevere qualche intervento di bonifica. Capito?